72 scritte con la vernice spray, 5 bancomat di 4 diversi istituti bancari danneggiati, almeno una quindicina di vetrine di negozi sfregiate dal colore nero delle bombolette, lungo un percorso abitualmente turistico da San Rocco ai pressi del campo Santa Ponal. Quasi mezzo chilometro prima che è appena passato sotto porto in Ramadonetta, il gruppo composto da circa 150 narcoinsurrezionalisti venisse bloccato dal cordone di forze dell'ordine e rispedito disperso verso San Giacomo dell'Orio. 50 di loro sono già stati identificati dalla Questura, che ha verificato come 3 fossero quelli per i quali si era tenuta la manifestazione contro chi aveva ricevuto il foglio di via. E per questo terzetto, dal punto di vista penale, la situazione si fa senz'altro più pesante. Pronta la reazione dei veneziani, oltre alla rabbia immediata di tanti cittadini nel commentare scritte e danneggiamenti. Martedì, nel giorno dell'immacolata concezione, almeno in 300 hanno confermato la loro adesione al Cleaning Day, un ritrovo organizzato in campo San Polo alle 11 da associazione Masegni e Nisioetti, che da anni promuove in città la cura e il mantenimento della città stessa. Si troveranno vestiti con tute bianche, portando secchi e guanti, ma è più facile che camminino in gruppo per calli e campielli, più che riprodiscano direttamente i danni degli anarchici. Anche perché sono i primi a non volere e poter restaurare la facciata in pietra distra, imbrattata della chiesa di Santa Maria Mater Domini, e poi perché c'è chi questo lavoro vorrebbe farlo fare direttamente ai tempisti. È sorto qualche dubbio perché sicuramente a livello emotivo il fatto domani di pulire i muri è una cosa sicuramente positiva, però qualcuno giustamente ha sollevato il dubbio perché dobbiamo pulire noi i muri che hanno sporcato questi imbecilli. È giusto che siano raccolti i 40 nomi, li sappiamo benissimo, e che vengano processati per direttissima, presi, e loro devono pulire i muri che hanno sporcato. Martedì dunque non si ripulisce a Venezia, ma si manifesta contro l'inciviltà che più in generale dei fatti di sabato la danneggia periodicamente. Piccoli interventi simbolici riguarderanno le vetrine annerite, i muri che saranno trattati con calce naturale e qualche pietra con i gel remover. Ma poi l'Onlus, Masegni e Nizioletti attende che sia il comune a completare l'opera, affidando alla professionista i seri del restauro, altrimenti con la classica mande bianco si rischierebbe di peggiorare il danno stesso. Nelle risposte è sorto anche un dubbio sulla qualità tecnica dei lavori che possono essere fatti da comuni cittadini? Sicuramente quando interviene un cittadino dell'ultima ora, sicuramente può sbagliare nell'intervento, però l'associazione Masegni e Nizioletti, che si occupa di questo da anni, sicuramente negli anni ha acquisito delle competenze tecniche, per cui sicuramente saprà indirizzare nel modo corretto il cittadino che vuole aiutare.